Ciao a tutti, vediamo in questo video tre azioni per sentirti bella con un uomo. In questo video voglio spiegarti cosa fare praticamente per sentirti bella e quindi avere possibilità ovviamente di conquistare, se dura, affascinare un uomo, l'uomo che desideri. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo il mio seminario online sulla legge e l'attrazione che sarà sul canale Felicità Benessere martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23.00. Per partecipare devi andare sul canale Felicità Benessere, trovi il link qua sotto, selezionare il tastino Abbonati e poi selezionare l'abbonamento Seminari Online. Se non lo vedi dall'app del cellulare, vai col computer. Il video poi resterà per un mese, quindi avrai tutto il tempo di rivederlo. Allora, vediamo un attimino queste tre azioni per sentirti bella con un uomo. Intanto sono azioni pratiche, diciamo così, che servono però ad aumentare la tua percezione di bellezza. Perché una donna è bella se si sente bella. Ma questo in realtà vale anche per un uomo, diciamo, però per una donna il primo punto deve lavorare per sentirsi bella. Perché la bellezza è un atteggiamento, la bellezza è un modo di essere, la bellezza è un atteggiamento fondamentalmente. Se tu hai l'atteggiamento della bellezza, sarai bella. Perché al giorno d'oggi poi è facile, diciamo così, anche migliorarsi da un punto di vista fisico, coltivare la propria bellezza. Ma vediamo quali sono queste tre azioni pratiche. Allora, la prima è quella di celebrare la bellezza. Cioè devi piacere a te stessa fondamentalmente. E allora quali sono le cose che devi fare per celebrare la bellezza? Beh, intanto, diciamo, prendere cura del tuo corpo, prenderti cura di te stessa. Questo è importantissimo. Ma in generale, quindi fare dell'attività fisica, un regime alimentare corretto, insomma, questo è la base. È la base proprio per sentirsi anche bene, a proprio agio con se stessi. E poi celebra la tua bellezza. Cioè, provati abiti davanti allo specchio, prova a camminare, prova a muoverti, prova a danzare. La danza, l'atteggiamento. Cioè non è un corpo l'estetica in se stesso. Il nostro corpo è dinamica. È come ci muoviamo, come gesticoliamo, come parliamo, quello che facciamo. Quindi la fisiologia è importante. Quindi puoi veramente provare a guardarti e ad apprezzare la tua bellezza. Provare a percepire da dentro, a percepire il tuo fascino. Ma proprio anche guardandoti allo specchio. Quindi il nostro specchio non è soltanto un esercizio di vanità, ma è anche proprio un esercizio tecnico per vedere. È come se ci vedessimo dall'esterno come gli altri ci possono percepire. Come possiamo muoverci. Possiamo migliorare tutto. E dobbiamo smetterla di credere che le cose o ci sono o non ci sono. Qualcuno dice il fascino c'è o non c'è. La bellezza c'è o non c'è. Non è vero. Come tutte le cose della vita, l'impegno, la costanza, il lavoro, la determinazione, il volere qualche cosa, ci porta a raggiungere questo obiettivo. E quindi se il tuo obiettivo è essere bella, che poi è un obiettivo naturale, ce la farai a raggiungerlo sicuramente. In qualunque situazione ce la farai. Secondo consiglio è quello di, come si diceva una volta che i giapponesi copiavano e poi dopo adesso stanno copiandole da loro. Quindi prendi dei riferimenti. Prendi dei riferimenti di donne che conosci tu personalmente o che puoi vedere nel web, nella televisione, insomma. Prendi dei riferimenti di donne che ritieni affascinanti, di donne che ritieni belle. Non soltanto fisicamente. Quelle che proprio ti ispirano. Quelle che possono diventare un modello di riferimento. Il modellamento, tra l'altro, è una delle tecniche della PNL, no? Che dice questo. Se qualche essere umano fa qualcosa, in qualche modo, si comporta in qualche modo, allora posso riuscirci anch'io. E quindi, però, avere un riferimento di qualcuno che in quel settore, in quell'ambito particolare, pensi che sia migliore di te, tu puoi raggiungerlo, puoi migliorarti. Ecco, quindi avere un riferimento è comunque importante. Perché la bellezza è prima di tutto un atteggiamento, come dicevo. È l'espressione, il modo di guardare. Quindi osservare ed imparare. Noi possiamo imparare. La scuola di bellezza è una scuola di dentro, perché quando dicono la bellezza si vede da dentro. Ma è così. Non ci crediamo. Crediamo che sia soltanto un qualcosa esterno, ma invece è qualcosa che parte da dentro. E poi c'è il terzo suggerimento, importante. Prima del terzo suggerimento, però, ti invito a iscriverti al canale, seguimi sulla pagina Instagram. Ci tengo che ti iscrivi a questo canale, che sta crescendo e ci sto mettendo energie e spero che possa esserti utile. E poi, ti ricordo, il seminario online, martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23.00. Se vuoi partecipare, devi semplicemente andare sul tastino, sul canale Felicità e Benessere, tastino abbonati e selezionare il seminario online. E veniamo al terzo, al terzo suggerimento. Allora, osa. La bellezza è saper osare, essere audace, essere anche un po' trasgressiva, uscire dalla propria zona di comfort, coltivare ironia. L'ironia è, come dire, rende belli. Adesso, facendo un esempio maschile che mi viene in mente in questo momento, prendiamo Benigni, che potrebbe essere che esteticamente non è, potrebbe non piacere, diciamo così, magari. Però quando parla, quando si muove, quando recita una poesia, beh, cambia subito atteggiamento. Viene percepito in modo diverso, perché essere audaci, e questo vale anche per una donna, non soltanto per un uomo, il modo di guardare, l'atteggiamento. E questo è quello che fa la bellezza, l'autostima, coltivare autostima. Autostima vuol dire amare te stessa, ma renditi conto che se non ti ami tu, non ti potrà mai amare nessun altro. Se sei tu per prima che non ti vedi bella, ma come puoi pensare che un altro possa vederti bella? Ti vedrà, vedrà una bellezza sfiorita, vedrà una bellezza svanita. Per essere bella, devi sentirti bella, e avere, e credere profondamente dentro di te. Ma non è un qualcosa di magico, è proprio che noi creiamo la nostra realtà, e quindi l'autostima e l'armonia interiore. Uno può anche sbagliare, può anche sbagliare dei comportamenti, può sbagliare delle azioni, può sbagliare qualcosa, ma non è sbagliato. Ognuno di noi è perfetto così com'è, perché si sono create cause e condizioni affinché sia così. E questo è il punto di partenza, ma noi possiamo sicuramente migliorarci. Un giocatore di carte, bravo, non è che si lamenta che gli sono state date le carte sbagliate, quelle sono le carte che ha a disposizione per quella mano, ma lui saprà vincere anche magari con delle carte non particolarmente valide. Ecco, questo è quello che significa saper tirare fuori da dentro i nostri talenti, perché ognuno di noi ha dei talenti. Spetta soltanto a noi tirare fuori. La bellezza è uno di questi talenti. Tutte le donne ce l'hanno, nascosta da qualche parte, devono semplicemente tirarla fuori e manifestarla. E questo si può fare coltivando l'autostima. Tu sarai bella e ripeti dentro di te io sono bella, io sono bella, io mi sento bella e sono bella. Deve diventare un mantra, perché è una goccia che piano piano si sedimenta, un seme che piano piano si sedimenta nelle profondità della parte emotiva e non potrà fare a meno che dare i suoi frutti. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!